Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Per un incendio divampato nei pressi della sede ferroviaria, il traffico tra Vasto San Salvo e Montenero di Bisaccia sulla linea Pescara Termoli è sospeso da questa notte e in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti i tecnici di rete ferroviaria italiana. Coinvolti sette treni, cinque regionali cancellati e due intercity. Sono già stati attivati quattro autobus sostitutivi. Ed è stata un'altra notte di passione e preoccupazione all'Aquila per l'incendio di origine dolosa che sta flagellando il monte di fronte al popoloso quartiere di Pettino e che non è sotto controllo. A Pettino si registra la presenza di molte persone in strada lungo via del Castelvecchio, via Sfrizzoli e in altre che sono le pendici della Pineta. Non sono pochi coloro che hanno fatto filmati o foto. L'effetto delle fiamme di notte è davvero ben visibile. Il rogo è infatti appunto ben visibile da ogni parte della città, così come si avverte anche l'odore del fumo. Vista la situazione che si sta delineando non c'è sicurezza per quanto riguarda le linee tagliafuoco se possano meno reggere al 100%. In tal senso c'è anche il timore che le fiamme possano arrivare alla zona di Madonna Fore e San Giuliano, molto frequentata dagli Aquilani e già colpita dal rogo del 2007. Le operazioni di spengimento con canna d'era ed elicotteri sono riprese alle 6 di questa mattina. A quanto si apprende sono circa 300 le persone che stanno operando sul fronte aquilano e su quello che deve comunque essere monitorato perché non domato, divampato per primo nella collina che sovrasta la frazione aquilana di Arischia. Sul posto, oltre vigili del fuoco, protezione civile, volontari, esercito, forze dell'ordine e polizia locale, intanto vanno avanti le indagini e l'inchiesta per individuare gli piromani. Il comune, che ha richiesto lo stato di emergenza, ha allertato le famiglie residenti nella zona di Pettino e Cansatessa, a ridosso del fronte dell'incendio, di tenersi pronte in caso di evacuazione. Già fatto un censimento preventivo dei residenti e programmato un piano di alloggio alternativi in caso di bisogno. Danno ambientale grave, invito la comunità a vigilare sul territorio. Lo ha affermato l'arcivescovo di L'Aquila e la cardinale Giuseppe Petrocchi visitando le comunità di Arischia e Cansatessa. Nel quinto anniversario dell'enciclica laudato si, sottolinea la cardinale Petrocchi, risuona ancora più forte la denuncia di Papa Francesco contro l'uso irresponsabile e l'abuso dei beni che Dio ha posto sulla terra. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.398 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale di L'Aquila. Rispetto all'altro ieri si registrano 9 nuovi casi. 16 pazienti, uno in meno rispetto a due giorni fa, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno in terapia intensiva, mentre gli altri 107, 8 in più rispetto a due giorni fa, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 472 pazienti purtroppo receduti, numero invariato rispetto all'altro ieri. 2.802 sono invece quelli dimessi o guariti, uno in più rispetto a domenica, di cui 8 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.794 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test di seguito. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 124 con un aumento di 8 unità rispetto all'altro ieri. Si è riunita ieri all'Aquila la giunta regionale in seduta ordinaria che ha approvato diversi provvedimenti. Ha approvato un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università di Chieti Pescara e l'Ufficio Idrografico e Mariografico per redigere studi specialistici. Si tratta di borse di studio per la prevenzione del rischio idraulico e idrogeomorfologico sul territorio regionale e per l'aggiornamento del piano di tutela delle acque. Inoltre, poiché gli interventi finanziati con PORFESR 2014-2020 per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici sono compatibili con gli incentivi elargiti dal gestore dei servizi energetici attraverso il cosiddetto conto termico, la giunta ha approvato lo schema di convenzione da proporre ai comuni finanziati proprio per accedere al conto. È un'azione di solidarietà tra le amministrazioni comunali. Gli incentivi GSE ottenuti dai comuni per gli interventi già finanziati vengono versati alla Regione perché li utilizzi per finanziare, senza oneri, altri interventi di efficientamento energetico. Ciò perché non è possibile prevedere un doppio finanziamento, definiti con delibera anche i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge di stabilità regionale 2020. Approvato un progetto di legge per delineare gli ambiti sanzionatori relativamente all'uso agronomico di effluenti di allevamento digestato ed acque reflue di aziende agricole e piccole aziende agroalimentari. Approvato anche il finanziamento regionale stanziato per il 2020 di 500.000 euro, ripartito tra i consultori pubblici della ASL 70% e quelli privati 30%, a seguito dell'istituzione di un servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità. Approvata la ripartizione regionale dei fondi statali 2020 per il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione per i Bambini fino a 6 anni. La Regione provvede a indicare al Ministero il riparto della somma stanziata per l'Abruzzo in termini di programmazione regionale. Infine la Giunta regionale ha conferito l'incarico di commissario liquidatore dell'Associazione Ciapi Abruzzo Formazioni a Gabriele Di Natale. L'amministrazione comunale di Pescara nell'ambito della riorganizzazione della riapertura delle scuole sta definendo anche l'ingresso agli asili nido comunali previsto a settembre. Le linee guida del Ministero dell'Istruzione, estilate con i gabinetti del Ministero del Lavoro, Salute, Pubblica, Amministrazione, Pari Opportunità e Famiglia, in raccordo con ANCI, Associazioni di Settore e Sindacati, hanno fornito le indicazioni anti-Covid, anche alle strutture per bimbi da 0 a 36 mesi e personale addetto. A fine settimana l'azienda speciale fornirà la gradatoria definitiva dei due nidi comunali di Via Fosco e Via Chiarini. In tutto potranno ospitare 75 bambini. In attesa delle disposizioni regionali, stiamo lavorando secondo le linee di guida nazionali a un piano concreto e operativo per riaprire i nidi comunali in massima sicurezza, dice l'assessore agli asili nido e alla riflessione scolastica Barbara Di Giovanni. Stiamo provvedendo, aggiunge l'assessore pescarese, alla pulizia generale, alla sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici di Via Chiarini e Via Foscolo. Nella sanificazione, insieme a un medico e tecnici, stiamo predisponendo particolare attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, interruttori della luce, corrimano e rubinetti dell'acqua, sedie, braccioli, tavoli e fasciatoi. La mascherina non è prevista per i bambini di quell'età, mentre dovrà essere usata dal personale che dovrà indossare anche i guanti. A scopo preventivo, le linee guida sottolineano che i bambini, da 0 a 36 mesi, con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5, dovranno restare a casa. Ad oggi sono arrivate le riconferme dei 24 bimbi iscritti lo scorso anno. Finora sono arrivate 34 domande per la fascia, da 0 a 19 mesi, e 24 per quella da 23 a 36 mesi, per un totale di 58 iscritti nelle due sezioni. Oggi, martedì 4 agosto, la chiesa celebra la memoria di San Giovanni Maria Viannè, sacerdote, patrono del clero parrocchiale. Nella diocesi di Termoli Larino si celebra la festa di San Basso, vescovo e martire, patrono della città di Termoli e della diocesi, solennità nella città di Termoli. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a metà pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio, pioggia nelle prime ore della sera e poco nuvoloso in tarda serata, con temperature da 23 a 33 gradi e venti deboli, e nelle zone interne cielo sereno fino a metà pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio, nuvoloso nelle prime ore della sera, e sereno in tarda serata, con temperature da 22 a 31 gradi e venti da deboli e moderati. Il mare è previsto mosso. Ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne, grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.